Assaggia, ma è mai buono Aspetta, sai che cosa è stato bello Voglio dire la cosa migliore Adesso aspetta un attimo che si sprizzi Aiuto Ok Se vuoi già ti do un consiglio Adesso è un po' una rotta di foglie Un po' è lunga, troverai Non so quanto ti... Ciao bella C'è già Luca Raimondi, ciao Luca, ti diciamo subito una cosa Oltre al buongiorno C'è il nostro Giud che si mangiava i biscotti Con la Coca Cola adesso E' bellissimo Non hai succhi buoni da bere Francesco Piazza ti dice ciao Prezzo Ciao Ehi Non neanche a te Francesco Non neanche a te Ti vogliamo bene Ciao Prezzo è bellissimo Ehi ma tu... Porco Id Sta ridendo anche io, anche Laro stavano ridendo Ciao Prezzo Aspetta Il biscotto È arrivato a casa mia Jevet Ha chiesto hai un qualcosa da bere È andato in frigo Preso la Coca Cola E cosa che hai detto La colazione dei campioni Come ho già detto anche allora l'altro giorno Ok Anzi, mi sa che era proprio ieri Mi sono fatto per colazione Mi sono avuto mezzo litro di Pepsi Andiamo a vedere cosa c'è nel Battlefield Ma buongiorno all'Ozio Pino Oddio bella l'Ozio Pino Salve Queste mi servono Io non trovo più la mia ciabatta qua Ciab matta Ciab matta Il ginocchio In una maniera atomica Questo è pure Ne ho tanti di Training Item Tech Di Training Item Tech Uno Ovviamente non è un cazzo di vero Shen Mutaito Mutaito Ciao Scorpion Oh bella Scorpion Anzi, ciao Scorpion Ieri dovresti sapere quanto mi sono incazzato su Lord Guarda bene cosa ho scritto Oh ciao Scorpion Guarda bene cosa ho scritto Ciao Pricia Pricia non Prince Eh, prezzo È prezzo in inglese Pricia Price Io farmo il ginio intanto Ma sta minchia di battle Poi quando arriva sul Global Nel 2013 Allora questa battuta è vecchia Di anni Ma ci sta È sempre attuale A parte di un mio amico In camera sono 31 gradi Io direi di Eh Ieri in camera mia ce ne erano 33 Ed era sera Non so come facciare Allora voi vedete queste stone Io pullo se arriviamo a 6000 like Quanti? Ogni tot like Ogni tot like Sì facciamo i mini ricatti È divertente Una pull perché Ogni 50 Allora i premi del battlefield quali sono? 3 Ok bella fra Sono settimanali? Qua 6000 6.000 6.000 Sono settimanali Adesso prima erano 5.000 Non offendere la mia qui Con sto testa di cazzo Anche se ti voglio bene Ehm Poi i premi sono sempre quelli 20.000 Tifarò moderngir Appena posso 2kai Appena avrò il mano 2.3.4.5.5.5.5.5 Siamo solo in setta 11 Ma perché mattina presto Che poi dopo ti devi andare Esatto Vieni a mangiare A mangiare Allora io prima del battlefield Giapponese Io ieri non ho farmato quel bastardo di infame di guldo, mi sono addormentato Eh ho visto lo zio Pino che hanno leggermente migliorato i premi Adesso a posto di... Ci sono più ston... No, più che altro davano... Cioè no, hanno aggiunto roba Meglio loro Le orb no, perché sono sempre quelli di puttana Dimmi che è successo sull'Oi, chiedesco a Piannico Sul portatile non me lo regge Avevo 0,2 fps Ho evitato di incazzarmi Però stranamente la live funziona Stranamente Riesco a stare su Discord mentre faccio la live E stranamente Facciamo una ranna su questo intanto Che arriviamo... I'm the Imperio, you do do I'm Didi Mi sono incazzato, ho preso la chiavetta che collegava il fisso L'ho lanciata Ho tirato un... J, ero tu ti sei addormentato a 10 orbi Io invece me ne mancava un po' Che ho detto, ma sì, dai, tanto le faccio dopo Mi sono addormentato, mi sono risvegliato A 10 orbi? Il giorno dopo Leonidas, l'abbiamo parlato ieri di Leonidas Ma non urliamo magari Oddio, è lui Scusate se urliamo Cosa? È lui? Non so se è lui Sai chi è Leonidas? È lo youtuber? È lo youtuber Ormai siamo... Non lo so Io l'ho trovato nei friend A me a Barter mi manca una run per arrivare a 30 per ottenere l'ultima medaglia E poi mi mancava tipo 30 orbi medie per farlo full ability Ditemi un team Per fare questo evento in quanto che aspettiamo gente Io vado dormire Per fare questo evento potare Perché lo sto usando anch'io Ancora No, allora ho usato il suo presente? Ah, tra l'altro guardi... grazie Non diciamo chi è, grazie Zagli, vabbè Questo? Ability free Ma è sempre meglio che niente Future se puoi Va bene, c'era prima Buongiorno Master Lion Questo che? Ability free Buongiorno Satoshi Ability free Vabbè Team Future, giusto? Questo qua Soi Goku Prendiamo quello lì con l'ability maggiore Ma penso sia Posso fare così? Penso sia Leonidas a questo punto Dato che siamo in clima squad genio Farò con quella L'ho già fatto ieri Che faccio un team diverso Io mi sono segnato prima tutte le orb Da prendere Da Di Gino Alzando leggermente un po' l'asticella Così Non rischiare Che cosa ho fatto? Ho sfangolato tu Allora questo Da me sono 36 gradi Da voi Da me ieri erano 33 in camera mia Con il mio 1 e 2 E poi ci mettiamo Ci mettiamo Ci mettiamo Ci mettiamo E qua sono 30 attualmente Ci mettiamo Zorek Quanto shopperai nel nuovo gioco di Nanatsu Chiede l'imperatore Niente Perché Non lo scarico Comunque Devi dire anche A quanti Javet non mi sento abbastanza salutato Ave Amico mio Ave Ciao Ciao Javet 33 arriverà 36 oggi Penso che adesso sia sufficiente 33 arriverà 36 oggi Madonna Se arriva a 40 Faccio Non so Shoppo Giuro Se arriva a 40 gradi Shoppo anch'io Shoppi? Si a caso Senza un motivo Shoppo Sudokan? Si Quanto? Non so Penso 50 Se arriva a 40 gradi Qua Non ci dai Con 50 euro Eh? Io li avrei già spesi Anch'io Ma io non posso Perché i miei Mi controllano il conto Difatti io Paglierei per fortuna Metti tutto su per stepay E non gli dice un cazzo Mio papà No ma il fatto è che i soldi Con il portafoglio Per tenerli Vivere 4 est Io li avrei già spesi Per dopo Io li Peccato che non lo posso fare Anche io Allora vi ti voglio Spendere Grazie Prego Porco dio Facciamo così Ah si Quanto tempo ci metti Per fare sta roba Io? Si Poco Nico hai altra Questa roba qua Non mi ha fatto un pezzo Della sua special Quindi Quale roba? Quello della Battlefield Si Ma dura poco Se non durano come Zamasu Lo scorso Battlefield Che era impossibile Dura poco Ti presenti quando Blackfartos Mi sembra girato Una roba del genere Si ma con tutti i piccoli Una roba del genere Una roba del genere Non mi pensi malato Ok Bosco Opio Nel caso te la recuperi La live di ieri Fidati che era Era bello Cioè nel senso C'è un bellissimo Pack opening Non è Fica niente E un Gem opening Batch opening Sunbone BG Sunbone Che ci saranno anche oggi Se Quanti likes siamo Ecco cosa devo dire Quanti likes siamo Io non lo so ma siamo Profi like Suppondo Essendo solo Beh se arriviamo a 20 like Pullo Non dico quanto 5 stop No Bullo Sei un bullo? Ho fatto 2 milioni Senza click Io però dovrei far link Aspetta un attimo C21 in appare C21 in appare C21 in appare C21 in appare Lasciamo così Hai già pullato No Insta live Non ancora Nella live di ieri Se qualcuno L'ha vista Ha pullato 1000 stone C21 in appare 1000 stone Poi Altre 700 Le ho usate per cazzi miei Ecco AFK dal configura Se le fatte così Il problema è di quando Ho shop Tutte queste stone E dici me le tengo E che dopo Tu le vedi lei Dici devo spendere La voglio spendere Sì Ma io sono così Io ho queste 113 stone Attualmente Io le avrei già spese Se fosse stato per me Solo che so Che ci sono altri Figi interessanti In arrivo Quindi le tengo Una volta Una volta presi 800 stone Per la baccesa Di sell Ok Io la baccesa Potevo anche Non pullarci Perché ho detto Ma in fondo Non mi serve pullarci Cioè Sell già ce l'ho E va bene Non mi importa Scorpion Leonik Chiamalo Nico E chiamami a me Nick Perché diciamo Che nella realtà Cioè nella realtà Fuori da Youtube Noi ci chiamiamo Cioè io lo chiamo Nico E lui mi chiama Nick Quindi Onde evitare Se vuoi Che magari Dici Nick E ti rispondo io Chiamalo Nico Che così capisce sicuramente Continua E dicevo Cosa stavo dicendo Non lo so Cioè Nella bacce di Sellezza Ah di Sellezza Sì Ecco Avevo preso 800 stone E erano per lui Cioè per quella bacce Io ci avevo pensato Di non spendere Perché ho detto Ah grazie Perché in fondo Non serve Cioè io ho già I vigili della bacce Tutto Siamo arrivati la sera Che ho detto Vabbè vaffanculo Pullo Ho pullato Non ho trovato quasi niente In quella bacce Infatti me ne pento Di aver pullato E il mattino seguente Mi sveglio A Prodokkan Legendary summon Di Mighty Mask E non avevo più stone Che puttana Che sfide Beh però Non penso che La triggerata Più grande Si è stata Ho trovato Black È forte Trunks LR F2P Lo uso Perché Vabbè A me piace Come PG Però linka Una cifra bene Con Trunks LR Fisico Luca Raimondi Chiede Se adesso Dovessi creare Un account JAP Quante stones Posso prendere Non tante Non Fosa stato Già l'anno scorso Ti avrei dato 300 Perché davano Quelle fantomatiche 300 stone Vero Global Vabbè Qua Vediamo No comunque Ti conviene Farti un account Cioè Ora come ora Global Perché comunque C'è l'anniversario Esatto Ma ce l'ho già Credo Nico Dice te No è sull'altro Sai che ho Ho Una non Bella notizia Su LOL Non so se Nero fatto La tua Nico Nicola Dove è andato Voi tu Nico Vado a dirglielo Subito Allora Allora Stiamo a 28 Ok Allora Io direi di andare a fare Il Battlefield Non ci Perdiamo In Cazzate Sì Sì Ottimo Ottimo Allora Genio E fisico Ok Ok Allora Si va di Qua si va di Extreme STR Ah ok Luca Non sapevo Ottimo Vedete ho fatto una cazzata Per esempio Mi sono dimenticato C21 Ah non l'ho fatta Perché è troppo P Sì Dopo la Mi ha detto Nico Che secondo lui La rifaranno più forte E non posso Rifare i team Giusto Sì Tolgo Magetta No Magetta no Tolgo Lice Mi salva Ok Va bene così Mi saluti Ciao Andrino Gameplay Allora Janemba Broly Rosè No Porco Id E Ta 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 Si è incazzato No ci è rimasto Un po' Nel senso che È rimasto tipo Tipo Un po' Come dire Ma dove andavo È andato un ottimo In bagno Allora Come funziona il battle Per chi non lo sa Si possono scegliere 7 pg su 6 Perché 7 Perché 1 Sarà il leader Del tuo team E il secondo pg Che sceglierai Sarà il sub leader Quindi si attiverà La leader Dei primi due pg Interessante Quindi il nemico Sarà bello forte Mi stai dicendo No Non i primi Ok Sono una sega enorme Ok Fantastico Per esempio Ok Come così E adesso Gnuchiamo Pure con Magetta Perché Magetta Prende Quanto per ogni orb Preso? 12 Un tocco di difesa 12% 17000 Gears Ciao 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 Gears Beh comunque Sono pure 2000 Eh lui non ho mai visto Quanto anno fa Quanto ante orb Per non essere neanche a tour Perché non esiste Perché non esiste Perché non esiste Sarebbe stato figo Metterla Secondo me la faranno Forse Anche quella di Goku Lo prometti Io c'ho Anche quella lì di Quella GL Anche quella lì di 10.000 E una stone Una Due Ok E anche Quella lì di Goku Kaiotech E Vegeta Scouter Fisico Gli altri due Ah si 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 Quello che c'è L'uomo che fa La camera mia Tipo sta incazzato Mentre Vegeta Che sempre sta incazzato Che fa Qua usiamo Sempre Xtreme Fisici Perché io uso Gli Xtreme Perché Diciamo che sono Quelli messi Un po' peggio E quindi FPF non ce l'hai Full hub Ability 3 Mi sembra Posso vederlo da qua Vabbè Lo vediamo Si No ce l'ho Ability 2 E niente Ho una sfida Da lanciarti Ah chi a me Si Quale Ci mangiamo Invece che Latte e cereali Coca Cola e cereali Per collezione Quando Un giorno Prendiamo la Coca Cola Prendiamo i cereali Ci mangiamo Coca Cola e cereali Va bene Ottimo Probabilmente i cereali Si scioglieranno prima Per Cioè Si Si Acidano Ok Dai possiamo tutti Tu hai le prese con Giniu? Io hai le prese con Giniu Ma voi sapete come posso fare A spostare app Da una scheda SD del telefono A un'altra App? Non so se si può Forse al massimo I dati I dati dell'app Si Ma proprio l'app No Cioè l'app Della riscarichi Poi Con la Cioè Alla fine Con i telefoni Che ci sono adesso Se è un telefono Relativamente nuovo In qualche modo Recuperi i dati In teoria Anche senza passarteli Da una scheda All'altra A meno che non sia Un'applicazione Tipo Non so Di un emulatore Magari Che la Ok Dei passarteli Tramite scheda SD Se no li perdi Quel Bergamo Con la BDT Ha stile da vendere Non so se ti ricordi Ieri Come ho detto che l'ha fatta Ha un grande stile Prova da PC Scorpio Ne ho penso Che non si possa fare Ecco Anche Prova eventualmente Da PC Apre A che ora Apre Alle undici e mezza Terra d'Oriente Fino alle tre Sì Ogni cucina Cinese Giapponese Che si chiude Alle tre Ok 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 Ma scusa E per prenderti Ginyu Del Battlefield Quante Quante Quelle Roccette Servono Ginyu Quale Fisico O tech Quello Del Battlefield Ce ne sono due Quello che non si prende Con questo evento Penso a quello fisico Ah quello lì Che è Il primo uscito Sì 777 Te ne prendi uno 7000 Ah Beh ma quindi già Te ne puoi prendere uno In teoria tu Sì Ah ok Allora Qua aspettate che un attimo Che è un po' Complicata Inizia ad essere un po' Complicata la cosa Perché Uno due Scorpion Aspetta un attimo Cosa Nico? Hanno suonato il campanello Cos'è? Problemi di posta Problemi di posta Allora qua le cose iniziano a farsi complicate Non per sto nemico Ma per Il fatto che No a parte il fatto di quello che non linkano Ma poco mi frega Ma poco mi interessa Perché tanto la special Basta che la fa mageta Sì sì Eh Questione che di quello che ho visto dopo Perché dopo c'è Bojack AGL E io devo farla con l'Extreme A7R Quali super dovrei tenerli Perché dopo non so se ci sono altri AGL Cioè volendo il super Lo potrei anche utilizzare adesso Ma l'Extreme Ma ci scusa un attimo Una volta che usi PG in uno stage Non puoi più l'utilizzare in stage più avanti No Ah ecco la minchiata Ho capito Ho capito C'era qualcosa che non mi quadrava Io avendo già Black E Zamasu LR Lo potrei inserire In un'Extreme Tech Salute Dico che non riesco a fare Bojack Semplicemente per il fatto di Questo No ma non ti spaventare Perché non ha Non ha riduzioni Peccato che è instannabile Sì ok ma questo spaccia barre Ho bisogno di una barra Vado da lui Bravo tutta questa cosa E Boh almeno hai Ma basta che non faccio Hai l'amico che ti dà Il review Beh è il mio sempre Cosa? Il mio PG Non ci sono la friend No inteso come Ah il PG Chi ha mai visto il postino Setto Era una YouTube Poo fantastica Eh nel caso ce la guardiamo dopo È di YouTube Poo Ti sei preso male per quella notizia Nico? Ti chiedo Scorpion Sì mi dà un po' fastidio Ciao Pritch Anche Steven Zanchetta Ciao Prezzo Bella Cazzo Ah è Stevie Lui è uno che scioppa quanto te Ha sculato peggio di te E peggio di Nick Il tempo fa Ciao Eren Eren Ergal Eren Ergal Eren Eren dai Va bene Lui è il pompato Io non voglio gnoccare Chi? Lui? Eh eh Luca? No un altro Diciamo che se non piace farmare Non ha molto senso a sto gioco In realtà si Se c'hai duemila euro Da votarci dentro Ogni batch Anche se in realtà Poi in caso Ti metti le mod Nel massimo Poi si chiaro Meglio Hai più soddisfazione A non mettertele Però Se proprio uno vuole Non so perché ma Prima ho comprato Quattro Goku Questi qua Super Saiyan Blue Peccato che ora Non sculo più Eh ho sculato un po' io In stagio Ti userai per fermare qualcuno Però ai tempi sculavi di brutto Mi ricordo nella batch di Black Ne avevi trovati tre Nico un tuo clone ti dice ciao Il postino satto L'ho già visto Ci sta un casino Però l'ho L a questo fuoco Per favore Per favore Un po' di contegno Prince Arena of Saiyan Chiede Luca Stacca stacca Spengo la live Nico mi sto andando ad allenare Ciao Ah Aaron Non Aaron Ok ho letto male io Mettete like che pula C'ha ragione Riccardo D'Antuono Mettete like Aspetta che controllo Quanti like siamo Io nel mentre Devo giocare ad Orkhan Anche io Perché se no 18 Siamo a 18 like 19 con il mio Allora ancora un like E faccio due minuti Ne faccio un paio 2 Prince A smashed up Ci giochi Si che ci gioco L'altro ieri Ho giocato con Ah ci ho chiesto Ieri Che tu non mi pare Non so se l'hai visto Ghias Che mi pare Che ha detto Che se vuole Ci può dare una mano Che lui è abbastanza forte Su Su smashed up Stamattina ad esempio Mi ha chiesto un mio amico Aldo Il solito Se giocavo con lui Se giocavo con lui Dato che erano usciti Di nuovo Due eventi Gli eventi di Di shoto Per portarlo Su di luck Giusto O no Sai che non mi ricordo Mi aveva scritto Ma sei già il terzo No è il secondo livello di 3 E' il secondo livello questo No scusa non ci capisco un cazzo Perché c'è sta roba Allora ti dico subito 25 like dicono Controlliamo 25 Controllo subito E' tornato Si Koyami All for one Come ex battle No questo non siamo noi Cosa fa rigno Ma c'è anche fare il like Cazzo che tornazione C'è ragione 26 like Che tornazione del cazzo 26 like ragazzi Ho definito questo Andiamo a pullare Oggi sono usciti All for one E Tokoyami Appunto Io 50 sto Mico No non pull E 20 Ok Farmate assolutamente All for one Fidatevi Ok grazie Giesk Dopo nel caso vado a farmarlo Tanto penso che resti Fino a domani Io due copie ce ne ho Nessuno Quante copie bisogna ottenere 99 Per farlo a luck 99 giusto Ma se sei in gruppo Con altri 4 che come amico Come primo personaggio Hanno uno che ha 100 di luck Per esempio 99 All might 99 scusami Hai il drop assicurato Hai il drop assicurato Ma non si sa Se o è la copia O ti da ad esempio Quegli oggetti Per Awekenare O allenare Allora nel caso se vuoi Facciamo Io comunque dopo Dopo il Il sushi Dopo una certa roba Da casa che devo studiare Sì sì Perché devo Così stasera Risco venire in Cina Vabbè In Cina Ma domani andiamo in Cina No 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 Domani no Domani no Preferirei venerdì Se riusciamo Mi è un po' più comodo Perché domani dovrei essere Appunto al mare Resta per tutta la settimana Ai fino a mercoledì 7 Alle 3 59 del mattino Ok Alle 3 Mi metterà a farmare No scherzo O comunque Grazie nel caso dopo Lo farmo anch'io Stavo farmando anche Shot ieri Per portarlo Un po' su Ho shotto 10 L'ho shottato Sono simpatico È andato abbastanza bene Broly Ma lo aspettavo per più Easy E vadi No vabbè Non ti toglie niente È perché Zamasu Appunto È una passiva Che preoccupazione ti fai compagno Ah cos'è Sì ma adesso mi triggerò Sto stranzo Ma com'è il sushi È buono? Non ho mai l'occasione Di assaggiarlo Allora Dipende Io l'ho sentito tempo fa E a me non piace Certo che per essere buono Deve essere fatto bene Nel senso che Come il cinese Essendo comunque cibi Più complicati Da un certo punto di vista Devono essere fatti bene Per essere buoni Finiamolo con Boja Poi qua Qua avete un intenditore Di sushi Quindi chiedete Boja No più che altro Io sono dell'idea No tranquillo Sono dell'idea Che Boh Se tu chiedi Se qualcosa È buono A qualcuno Lui ti dirà Lui ti dirà la sua Perché poi magari A te Poi fa cagare Quindi è quello Cioè per sapere Se è buono Devi provarlo tu Tu stesso Poi io Come diceva Andrew Zimmer Se qualcosa Che vedi Ti piace Mangia Soprattutto freschi Che bene Sì Cioè nel senso Sì Deve essere freschi Ah i metacooler LR No E non lo prenderò Ancora per un po' E' il semplice fatto Perché ancora Non so quante Porca Quanti Ne danno Quanti punti Battlefield Danno in totale Non lo so Se ne danno 150k O 120k Però penso che Hanno aggiunto Un nemico Ok Lui Non c'era Allora direi Di iniziare proprio da lui STR Oddio no Cosa E' tech Zamasu Eh L'hanno sputtanato Un po' i tipi Se si No Li fanno a caso Ma se si recupera la vita Zamasu Con i tech Che non ci sono stunner Non la fai Ma nota una cosa Hanno scambiato Sti due E hanno scambiato I due I tipi No lui è fisico Ah sì Ti sei confuso Con quello Che è simile Un po' Sare per questo Vabbò ci proviamo Non Non costa niente Anico abbiamo Io ho lanciato Una sfida Gianlu Uno di questi giorni Ci mangiamo i cereali Con la coca cola Che schifo Quei cazzo Te lo fanno Forti Forti Ah ma li mangio io Se vuoi al massimo Madonna Puttana E' bellissimo Mischiare cibi E' stra vivo Sì ma c'è un limite Cazzo Capitolo E' nocci Il limite Il cibo Dio Mi ha droppato una copia Comunque Che cura Puttana No ma vedi che sono stupido Ciao stupido Non l'ho messo Coppola Sempre il LR Mia mamma non ne vuole sapere di mangiare sushi Perché sente sempre notite su gente che va all'ospedale per aver mangiato E dice sempre che ci sono i vermi nel pesce crudo Beh no Se è pesce fresco ed è ben trattato no Ma perché devono passargli aereo il cazzo I vermi nel pesce crudo ci sono se non lo tieni bene Cioè se lo metti E poi dipende dal pesce che hai pescato Visto dei video dove un tipo aveva Cazzo se fa danni però eh Trunks Ha pescato Cioè aveva pescato Aveva comprato un pesce E dentro l'ha aperto Ed era pieno di Anisakis di merda Mi ha fatto cagare Beh aveva anche messo all'inizio del video Porta puttana Che erano contenuti schifosi Madonna Tanti dammi eh Porco due Cos'è tra l'oggetto? Io che sto per recuperare un po' di vita con Con Tapion Ma almeno fai tre Non sei No faccio sei Perfè? Meglio Bom scampio Nel caso tu Cioè vallo a mangiare Ma ricordati di Cercare di farti magari Di in giro Dove sono i posti Che lo fanno migliorare Perché Diciamo che meglio è fatto E meno rischio c'è Ah ok Fammi la special Sapete come sono le mamme Eh sì Però falla fu Sicuro Su TAC Sicuro Ma spero Ma lo sciorre Perché non hai messo Goku Quarto full power Come secondo leader Chiede Federico Perché Ah lo penso anch'io Ah ciao Giallo Ciao Perché non ho messo Goku full power Goku full power quanto da distanza agli tech Ciao Giallo 90% ok Io non so se si sente Giallo in live però Ok Ho dato Me l'ha fatta alla fine Nico Sei una merda Tieni Giallo Tengo lui per forza Io mi sono svegliato adesso Ciao Giallo Ciao Giallo Prima cosa ho fatto per il docker all'inizio del battle Veramente così tanto male Io la voglio provare una volta spero che sia buona Eh dipende dai tuoi gusti Eh dipende quanti danni mi fa Ho inteso come il cinello Come il giapponese Si mi chiede Stavo dicendo per dire Stavo dicendo per dire Tipo io per dirti amo il cinese da quando sono piccolo che lo mangio Il cibo cinese è un ristorante in cui vado praticamente dall'inizio da quando è stato aperto Ed è strabuono Ah giallo Eh non so mai sto male Hanno aggiunto un nemico nel battlefield Cosa? Hanno aggiunto un nemico nel battlefield Trunks Che livello? Che livello è? È all'ultimo livello 3 Si C'è Trunks Ma vi c'è un 4 di boss Si 5 5 Ma fa tanto male Fa malissimo Se magari Vegito mi facesse special Porco Capito Nel mod Ultimo Io so provando a farla adesso Mi fa due attacchi all'inizio C'è ma io quanto Guarda chi è più difeso Guarda chi è più difeso Mettici Gogeta Gotenks ma piglia troppo danno E ci metto Gogeta e faccio recuperare la vita C'è ma vedi che sto gioco è una merda È un figlio di puttana Faccio una merda Penso che si sia Se non mi fa la spe Se me la countera magari Quanto mi leva? Se me la countera Yes Bello pulito Raffanculo che rischio di merda Sto Prunks Dove Dove Dovevo mettere Anche si ha ragione Chi me l'ha detto Eh Federico Monticelli Dovevo mettere Goku Goku Full Power Primo Ma non ci ho pensato No più che altro Non mettere Se avessi Goku Super Saiyan 4 Super Saiyan 3R Metterei lui Non Goku Super Saiyan 4 Tanto non tanko Goku Full Power Sì lo so che non tanto Non l'ho visto A merda Siamo 28 Ah devi fare le multi Perché siamo oltre i 20 like Ah raga io mi sa che facciano molti Però vengono fare adesso Però alzate tutti le mani in cielo Scusateci Ma non faccio nulla io Vai tutti le mani in cielo Mi faccio ad abbassare il volume di discord Che mi sta Mi guarda la reda giallo Fai tasto destro No Tasto destro Ma se fai così Dopo lui lo senti Lo sentono anche Quindi 7 spettatori Ok ma io tipo Lo sento Mi distrugge Però vabbè Non mi importa Boh Quando voi Preditate qualcuno Andiamo magari Preditate qualcuno Che non sia Tapio Una Super C17 Perché Super Tapio Un 18 Ce l'hai full Oh c'è Vegeta Attenzione Vaffanculo Che ti serve Una copia di C17 C21 e C17 C21 la voglio fare full ability 30 ma hai ragione Ogni volta che ci sono le summon Ci alzano gli spettatori Anche perché se C21 non è full ability Fa abbastanza schifo Se sembra che lo sappiamo Ho trovato Beerus Inti in singola Su sta merda E' forte quel PG eh E' forte Beerus Inti Ma no vabbè No scherzo E' l'unico Beerus Inti da c'è Già è Questa è già LR Ma non ci sono Non ci sono Se no le stone le avrei finite Già da ieri Ultima cosa Preparate il sushi di supermercato In un locale Che lo fai in modo Un locale Perché il sushi di supermercato Non lo devi neanche guardare Esatto Esatto Però in alcuni supermercati Sono buoni Nel dubbio Se devi scegliere uno dei due Non scegliere Piuttosto amore Perché rischi di star male Piuttosto vai a mangiare altro Esatto Esatto Intanto qua vediamo Un SSR Solo Una scaloppina Se è musked A me va bene E' my hint Provatevi che la cosa più buona del mondo E' la pizza Esatto Nasagne Allora io direi di farne un'altra Eccola Bella Mai agire Un giorno la porterei full Un'altra Ciao Dai mi fai due speciali in turno Ma che figa di troia Ma è la single summon No single summon Che dicono Single summon E' una marcia Più che altro perché non voglio sfasare con le stone Perché vado di 50 in 50 Gears che chiede di schippare ogni Ogni No perché non c'è gusto Da adesso in voi vai veloce No 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 Già me ne faccio poche Cioè ieri per esempio ne ho usate tante E schippavo a volte Almeno c'è Bardak tech Full ability No Qual'è quello tech Pgss Quello lì Saiyan No il Super Saiyan Quello c'è in gioco No Vabbè c'è C'è 19 Dai sono morto Masked Forse ce l'ho full ability Ce l'ho full ability Per citare tu sei chi Ok E' morto No E' ancora morto No è ancora in circolazione Giorno ma tu già hai fatto Quanta stamina di C17 Sì Com'è Al 40 like E' la terza fase E va delle special di chi Ah Bello Solo la terza fase Bello Bello A questo cell me lo tengo Perché glielo do in SA Quello l'ha E' vero No questi due no Sono del super strike questi vero Sì Dimmi te sei mi troppo Cosa è il super hint Per il 25% di vita E' qui ne ho fatto 8000 minuti Di visual Compranto che io ne faccio Mille qualcosa Buone unica Ma c'hai SLSTR Alleluia 26 Eh Ma è SLSTR Alleluia Eh questo c'è Sarebbe l'hability 1 Che sarebbe Alleluia Allora adesso andiamo a dare L'hability A mai Non è mai contento Che ce l'ho Ability Ability 3 ragazzi Ability 3 Ancora poco Andrà sa 10 Ancora una copia E via Poi ci sono i Che devo ancora formarmi C21 perché c'avevo Bo lì Ero toccato la grandina Ok io direi di continuare Il battlefield Aggiornateci sul numero di like Ovviamente 30 30 Giallo è felice di questo elemento Guarda Giallo Ancora quante 6 7 multi Pullerà in altro tapio Spero di no Lo succederà Lo sapevo tu Sì ma succederà Che pullerà un altro tapio Un altro c17 Poi un altro tapio Un altro c17 Cosa mi stai dicendo Vegeta e agl Io ho già la super agl Vegeta e str Sono deltoni Eh lui Beh no Non è uguale Alla fine però vabbè Che cazzo fai Figlio di puttana Vabbè ma lo sfondi Cheat Cheat Anche trans Pensavo di sfondarlo subito Invece no Hai dimenticato PG No no Sono fatto Lo so Pagliurto Già Bella sta turnazione Dove metterò Ovviamente Vegito ultimo Perché si Livello 3 Solo per te Provo subito Trunks Attivo la carta magia Quale? Dio Sai cosa sa? E beh Stemmia Ok Grande Grande Beh sì Grande Così si fa D'oltre Ma tu non giocavi Un pg che io gioco Chi è? Piccolo tech Piccolo tech Quello che fa Google the main Bella Leo Eh Leo è un attimo In bagno Mi sa Quindi ti saluto Da parte sua Bella Critto Quanto ti lanca Sto coglione 36.000 No No Critto No No Critto Ma è una pippa 15 critico Il più alla 2 Allora Papion primo Oi Chi è quell'altro Genio Genio Critico additional Perché si alza l'attacco Quindi Madonna quanto godo Metà e metà Dici Mi stai dicendo che Più o meno Cioè 15 critico 6 Trans tipo A circa 13 milioni di vita Boh Probabile Quindi critico 6 additional Arriva a 15 di critico Genio arriva a 15 di critico Vero quello inter No Sì Sì è vero È l'unico pg Che arrivava a 15 crit Devo fermarmelo Su global Sta critando tutto È un crit È un crit continuo Boh Diciamo che l'abbiamo fatta Let's crit Ho messo a attaccare C18 tech Perché prende le orbe Ok Ce l'abbiamo Anche Vegeta è andato Dopo ci facciamo black Per il semplice fatto Che Zamasu Io ho paura di farlo Perché Zamasu È tech Non ci sono stunner Nel super int Avete visto Non puoi stunnarlo fra Ah sì Puoi No Forse puoi Forse non puoi Non ci sono stunner Nel super int Che io sappia Extreme int sono Eh A dire vero c'è Il pg È Goku Battlefield Vero Ma non ha Hyggeance Eh Boh me l'ha counterato Sì ma aiutando Do du bar Adesso le 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 pietre viola Qua che non so Come si chiamano Settimanali Sono 6.000 Ma Quanto dura il Battlefield? Vuoi un draghetto Che mi recupera Tutta la vita? Allora Mettiamo In ambito di tempo Cioè Quanto tempo Non lo so Non lo so Allora Lui da 90% Vero Ai Ai fisici Lui Sì Salve Sono sciagli Quindi potrei mettere Non ha senso Ma è Ma è Ma è Ma è Usa Ma è Usa ma è Ma non ce l'ho Non l'ho messo Nel Dicono che hai Goku Raggan come stunner Sì ok Ma Parlavo che io Per i pg Che ho messo Non ne ho E non so se mettere O Bardak Super Sai Eh sì Vabbè Bardak LR Leader O Gogeta Però Bardak Da più stats Gogeta si da stats Da solo Solo No Gogeta è meglio È meglio lui Semplicemente per il fatto Che fa più fare Far dare Danni a Gotek Vero Quindi va Non metto Gogeta Questo non lo Eh lo so Lo so che c'è mai Int Però non l'ho messo Che tra l'altro Me l'hanno detto Black Rosè Sotto Black Goku Lol No vabbè Ma tra tutti Che mi dovevi silare Per forza Gotenks Tra tutti Che mi dovevi silare Per forza Gotenks Cos'è un siler Lui Nella passiva del nemico Stun 1 a caso Nel turno Sì è bella Bella cosa però Eh sì scusa Sila e basta Ma già male Pugetano Che fa Saro Sotto Eh ma non si è ancora Bussato Era meglio Gogeta Da stats Pure a Gotenks E ha messo Eh infatti Ho messo Io sono Appena morto Io ho otto Sei bar Eh Sei bar No mio Leader Eh Sub leader Come leader Ho messo Gotenks Che mi ha fatto 784 mila In critica A pugni A pugni Sì È silato Grazie per le tue special Vegito Blu Grazie mille Io ho capito che ne fa Perché si le fa Pensi di aver capito Pensi di aver capito Come farò il passo Di sto film Non ha più Basta Ha finito di critare Ha detto basta Non ho già fatto troppo Critica Ha criticato Ma mi ha silato lui Meno male che è lui Almeno tanta Sì Lui Voto Aspetta Sono 24 7 24 5 6 7 E qua sono 24 No 1 2 3 8 Non fa la 12 Chi Non importa Non importa Non importa Ieri mi è arrivata un'altra Eman Ieri mi è arrivata Un'altra Eman Di 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 Trus Caso Non ho capito Niente di quello Che tu abbia detto Uno vai a fanculo Va bene Due mi è arrivata un'altra e mele di truffa Ah Vedi pure Ma metà l'idea No bnl Era meglio congetto Ma l'ho messo Ok Io non riesco a cercare le stone perché voglio fare singola pro scolare E io sono la stessa cosa ma con le multi Sì Vabbè Vabbè No No One man no Cheat Tanca Cheat Tanca Sì ma tu c'è bardakallera che fai videopasti come fai Oddio Dai non c'è Io farlo fuori con la 11 kg Con la 12 La 10 kg Gotenks Oddio Oh ma sta fase era una facile Ma perché int Lo scorso black non mi ricordo cos'era ma c'era un black che era difficile Era Non era str Non era agl Con tutto a fastidio quando li fanno Tech forse Era tech Era tech Era tech E adesso ci abbiamo Zamasu che è una Ma devi farli tutti Ha fatto anche Vegeta Dura Sì Magari è facile Zamasu Vegeta aspetta Quasi l'ho fatto 29 like dicono Stavo per andare 29 È vero 29 Uno è stato tolto A 40 abbiamo detto A 40 faccio altri multi Eccolo qua Allora se Questo vuol dire Che Il Goku è l'ultimo fisico Sto qua è tech Ma devi fare Due singla su global No No Usi team monocolore Metti Gogeta Allora Gogeta e Vegito E questi qua Allora Boh alla fine Ma Gohan Lui dovrebbe stunnare No Lui Sì No C'è alza la difesa È l'attacco È l'attacco Vaffanculo Gohan di merda Sei inutile Solo per la passiva Però in sto team Almeno Gohan e LR Ehm Nucca Tra virgolette Sì ma dove basti Tra Vabbè sperare Però comunque Ha un po' di Kim Ma che team Che tornazione di merda Faccio così Prendi quella Oh cazzo No noti come metti lo Così No eh Ti si è sputtanato le orbe Però Vegito Non importa Ok Ottimo Ottimo No Ha preso color blazer Wow Vediamo i danni No Non arriva a 100 mila Ti ho detto Vapevo Che non arriva a 100 mila Io credico le cose Tant'ho detto Completamente a caso Boh in realtà poi devi Oddio 32 like Bom 32? Son game Sì Conferma Soprattutto devi calcolare Che dopo 6 turni Ah il crit Soprattutto Oltre il crit Dopo 6 turni A meno C'è venuto Sì 4 milioni Se ne recupera 3 milioni Tutto uno dopo Perché? Perché fa così ogni turno Se recupera 3 milioni Beh infattibile Eh perché non ci sono Non ho messo stunner Stunner Vediamo Evasione Dov'è? No non si è fai Eh ma si recupera Eh vedi ecco qua 3 milioni qua Però io adesso Gli ne farò di più Aspetta con chi linka meglio? Barda che si attiva Tra passi Chi? Barda La seconda parte Eh cos'è che fa? Eh il buff del 40% Eh penso di Sì? Non lo so Teoricamente Quello rosso Eh vabbè Comunque A me è andato benissimo Se riesci a fondere Vegito vinci No ma non è quel problema È che anche se fondo Vegito si recupera 3 milioni a turno Non vinco se fondo Vegito Cioè no forse si No sì Vinci Cazzata sì A prescindere Muore prima Dei 3 milioni Ho fatto 2 cogetti all'R 2 Vegito all'R Ebro Ebro Sti cazzi E Gesù Cristo Vigito fisico Pritato se si fonde Vegito Si trasforma anche Megat Eh evade Evade Aspetta Dovrebbe evadere Ma non lo fa Buona Buona Molto bello Molto bello Ehm Allora Non mi lamento Metti con secondo Buon primo Primo Sì Gogetta non tanca E fidati E fidati se hai fatto la road Fai quello adesso Si si sa qualcosa Dei progettano Beh l'avrebbe fatta Vabbè fa più danno hai ragione Così E poi Questi Sì ma Zamazzo lo trovo qui Facile a caso da colore Porca madre Vabbè Superinta Superinta è troppo forte Oh ma almeno una bella sfida Sì per carità C'è la più difficile questa Da Battlefield sicuramente Però Quello che ha recuperato Gli ho tolto adesso Beh è meglio Tanto sai che Vedi c'è l'ai gone LR Uno Additional Ah ma tancava Ma vaffanculo E' vero la road Allora 40.000 di difesa Full ability 5 di evasione Grandissimo E poi non serve Metti primo Vegito No Bravo Io gioco Io sto giocando Secondo Secondo a voi vale la pena Dare a orb e kaya Che è il physics ability 1 E no Doversi recupera All'inizio Secondo a meno Orbe e kaya Chi Ha che il fisico Ha che il fisico Solo 6 full ability Esatto 6 full ability Ho anche b2 Vole Ma non hai 15 critico Un milione Sì boh 33 like Un milione Questo non ce l'hai ability A che punto Siamo arrivato ora Siamo verso A che punto siamo Siamo all'ultimo Al penultimo boss Buongiorno Buongiorno Darkjoker Bella dark Bella re Remus Oh Bello 800.000 in crit Allora se non si refulla All'inizio Come sicuramente farai E beh I danni ci sono Metti gogetta Appunto Tu dovevi utilizzare Gli agiello No Ah lui era Lui era No scusa Io uso Gli agiello Ho sbagliato io Super Sì Ma come Ci buttavi tutti i critici Sì Ma Goku non tank Vegito LR 3 milioni Non li raggiunge Se non lo fai baffare Goku Super Saiyan 4 non tank E non fa 3 milioni Ne fa uno Secrita Ok L'unico PG che tankava nel team Erano Erano tre Che erano Vegito Trunks Ikari E Vegeta Super Saiyan 3 Che non fa danni Che se L'unica cosa era Stunnarlo con Vegeta C'era anche Jiren C'era anche Jiren Che non stundava Che non stunnava E non tankava Perché è una merda Adesso con gli extreme No Super Quanti che si prendono Sobata No ho usato prima Tutti gli extreme E poi tutti i super Perché i super Sono quelli messi meglio Da me Io su Global Ho fatto una multi Sulla bacia di Trunks LR L'ho trovato Broly LR E Mighty Musk E vabbè Fa vedere Riccardo Mamma mia Ho fatto una multi Su Trunks LR Ho trovato Broly LR E Mighty Musk Il mio Vegito Caramella UR Va del mondo Sono contento Scorpio Io sono riuscito A fare Farigna Che arriva Farigna Ma che ho Fantagenitori Fantagenitori Ma che ho Fantageni morti Avete un gruppo Discord per caso Avete quello Me lo ricordo Ma preferisco Discord Io Chi è che ha scritto C'è uno di Doc Canary Che adesso Non ho il link In descrizione Sinceramente Non so Lo metterò Da qualche parte Lo metterò Oddio mi hanno messo Mi hanno messo Il battle Il battle Il Fantageni morti Uno al mese Fantageni morti Uno al mese esce Teoricamente Ah non si può stunnare Il figlio di puttana È vero Adò ha fatto l'additional Grazie Ma tu ce l'hai Abiliti uno S10 No Sa uno Aspetto il suo Ezza Come ho fatto per Full Power Priser Io ho fatto S10 Non fa tantissimi danni 600 mira Come Goku Super Saiyan Interkid No l'ho fatto Più Io ho fatto una multi Su Borgos Ultimate LR Ho trovato Borgos Grande scimmione Dorato Super Saiyan 4 LR Anche io fari Ne ho trovati 8 Come ne hai trovati 8 Si in una singola Ah E non me l'hai detto No Cazzo Ti avrei spaccato Adesso te li faccio vedere Ieri non ho fatto samo Perché sono un povero di merda Ti avrei spaccato Mi dispiace Mi ci unisco il gruppo allora E torno Ok No io non vorrei far fare La 18k Lutra Voglio fargli fare La 12 Voglio farlo baffare Borgos ha una media Di 3000 stone Hai ragione E' vero E' vero Io e Farini abbiamo fatto Le summon simulate Di chi beccava più LR 3000 stone Per beccare Borgos Chi beccava Borgos Vinceva 3000 stone Per beccare Borgos Chi l'ha beccava prima? Io Dovevo fare la sfida Grazie a Dio Mi ho fatto la special Su Vegeta LR Adesso voglio fare un sondaggio Ditemi Nei commenti In live Cosa fareste A chi dà l'evasione A Vegeta LR Cioè all'uguale Che siamo 37 like Quanti like siamo? 37 Siamo lì Eh lo so ma Cioè io voglio Un attimo finire il battle Quanti siamo? 37 Ah 40 Cosa che se tipo Mi fai la special Adesso Adesso Sei un figlio di puttana Jiren dovrebbe tankare E dico dovrebbe Dovrebbe Perché dovrebbe Credo che è insonnabile Almeno colui avresti fatto Gritto 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 Però comunque Non è pronto Ok tanca E mi fa Meglio su di lui Che cabba Sicuramente Meglio su di lui Che cabba Cazzo Lui sa Dovrei farmarlo Ma Scorpion Ha trovato in una singola Tutte le lerea del gioco Io le ho trovato senza pullare Lui ha perso un account O ce li aveva Esatto Sono Che brutto Che questo No I will crash into pieces I will crash into pieces Adesso Lo manderei nei gulag Non può canterare In mente il gulag Non può neanche canterare Bargos è io Eh sì Bargos a casa Eh sì Io lo manderei nel gulag Nel gulag Nel gulag Il gulag Il gulag è un cibo Buon Buonissimo Crude Gnocchi con il gulag Ti ricordi quello che mangiavamo Non so se era il gulag Con l'elementale Ah con puttindente Quella è la plastica Fusa No a me piaceva La polenza Intanto ragazzi Senza neanche volerlo Ho fatto tutte le special Grazie Ho fatto tutte le special Che poteva fare Vegetta Io non ho l'R Ma va No Fidati di La che sono me Senti Vic venga attacca Bella Pippo Ah io faccio così perché Chi è bella Pippo Pippo Vidal 23 Bella Rai Io faccio così perché Vidal 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 Ci sarebbe fosse stato Sì Ok ragazzi Io non parlo più Bello il tuo italiano Perché ha pensato Tu può sparire Perché non prende tutto Perché ce lo S15 Che schifo Che stai È vero Non è saventi Che schifo Però To To Ability Full Full maessa 15 Ancora Marcio È un bug Fosse stato Stamente Siamo in 44 Che li stanno guardando È perché adesso Sono a fullare Perché stiamo Siamo in 44 Quanti sono Di like 41 Ottimo 41 Vai Borgos Per te Ricordo Cazzo 60 Like Si faranno altri Ok ragazzi Ho finito il bug Adesso 60 like Spende 70 euro E shop Quanto No io l'avevo detto A 1000 like Shop 100 euro Facciamo una sfida A 200 like Oh facevo una sfida A 200 like 200 like Shop 100 euro Ovviamente entro La fine della live Ho un'idea Si beh Quello si A 200 like È Se trovi Borgos In una multi Di quelle che fai Non lo troverò Borgos Nelle multi Di quelle che farò Perché io Porco dio 2000 stone Un c17 fisico Mi fa incazzare Come una bestia Vegeta 2000 2000 stone No Vegeta l'R Oh Featured I cio La verità Adesso Se è super c17 No devi Ti spacco il computer No Sono 1000 euro Poi tirami un pugno Sulla spalla Se vuoi No Non lo posso Ti avrei metto Sulla palla Ma non è il caso C16 Devi stare zitto Ma C16 Cappelli che c'hai Se stai zitto Porta la sinistra Ma C16 Li trovo tutti e due No Se li trovo tutti e due Nella stessa multi C'è ma dove è? Io ho trovato solo Il discord gg Per fari Spero di averci Non è quello Non è un altro Ma adesso Ti contattiamo Lo uso per Lo uso per L'STR Ok Stavolta Ti mandiamo il link Prossima summon Aspetta ma tu ce l'hai già Cazzo Che bel pc L'hai già mandato a tour Vegeta Dai Già full ce l'ha C'è esce Vegeta E non fa Instant Super Saiyan Lo fa sempre E poi Super Saiyan 1 Ma vabbè Bella roba È l'SSR alla fine Quindi schifo Bello super c'è È l'SSR alla fine Sì Ah wow Wow 2 SSR Wow Oh Ok va bene Basta È carino però Mi piace quel Goku Sì quel Goku Sì Allora Bello cazzo L'ho pullato anche io l'ultimo Cioè tu hai 2 milioni di questi punti 221 milioni No 2 milioni Sì 2 milioni Sì ma adesso cresceranno Allora Eh g1 C17 Ma mettere pg per acquired No È troppo mainstream No questo no Questo E anche quell'altro SSR Lui No 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 lui lo tengo per l'SA dell'STR Perché la testa di it Perché la testa di it sembra una cappella Non so Perché È una testa di cazzo Cinese quello che ha perso Eri l'accanto Non riesco ad aggiornare Dragon Ball Doctor Battle Jap Come faccio Cosa ti viene scritto Magari potrebbe essere che Caricolato da La divisa da space Ok Non riesco ad aggiornarlo È scritto qua Ah 12 giorni e 10 E guarda Allora io direi Super C17 il babo Mi viene un colpo il cuore E non è l'unico Ma c'è la full ability Non ce ne fa niente Super C17? Ah c'è la full ability Cosa mi piace? Cosa mi piace? Mi ha trovato i quattro Altri Quattro Due 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 No per fortuna non è Gotenks Physica Minchia O Rosè STR Rosè STR Sono sicuramente Cheat Ah Rosè STR ci sarà sicuramente Oh Cheat Community di Dokkan Chi è che l'ha detto? Tutta la community di Dokkan Che c'era qui? Che c'era Che ci sarebbe stato Ah È tornato Vegito Perché non dovrebbe tornare Rosè? Perché Rosè è mainstream E io dissi Ah ci sarà già NEMBA Cheat A banca di loro sono messo bene 131 Eh di medaglie Io ne ho fin troppe Allora io farei così Io lo usavo ai tempi Quando Era quello Io non ce l'ho No tranquillo Sì guarda basta che viene a pullare su C21 Che non esce nella club Fidati che lo trovi Non mi viene scritto niente Non capisco in che senso Nel senso tu Sei andato sul Ma hai provato ad andare direttamente nel play store Se non sei da pc Ovviamente Nel co-op Ah scusa In co-op E ad aggiornare Diciamo manualmente Come dico io Ah Ieri sul sito di scommesse mio no? Ho usato 10 euro l'altro giorno Mi arriva un messaggio Congratulazioni Bonus di 5 euro Bono Ma Hai usato? Ho usato 5 l'altro giorno Mi hai dato un bonus di 5 a caso Quindi non Come non avete mai usato Esatto difatti li spendo oggi per un'altra schedina E se la vinco Bestemmi Shop Ah boh dai Prendo i soldi come li ho vinti li shop Non mi viene scritto niente Mi viene scritto Parsing Parsing Ma cos'è parsing? Non ho capito ma non ho capito che gioco Oh so Japp 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 di ritorno Parsing Pursing Che vuol dire parsing? Che vuol dire? A parte che non capisco come ti faccio ogni scritto parsing che in teoria dovrebbe essere in japp Beh anche quando Puglio nel LR viene scritto legendary character coming in inglese No ma nel Qop è tutto scritto in giapponese in teoria Ah si Pursing Sa due Poi sono scemo io magari Allora raga io direi di fare le multe adesso a sto punto Quanti sai? Che almeno arriviamo a 50 like Allora io direi di fare una cosa 50 60 quanti stiamo? Siamo 42 Sfruttiamo l'attimo porco porco Allora adesso andiamo a provare una ROAD Che mi dite Voi quale? Le ROAD siamo a 41 60 allora Nel momento che si faccia la ROAD Si mi dovete dire voi quale ROAD Qualsiasi ROAD tra la prima versione di ROAD e la seconda versione Quella che volete Ma innanzitutto E dopo si fanno le summon Tutto il bel puttanone che non sei altro Ti becchi Kai da 30 Sale di 2 Secondo me di 0 1 Eh dai Meglio che niente Vediamo anche 3 E perchè quello Quello è al 5%? Quale? Perchè Perchè era la forma SSR Ah perchè ok Metamore Metamore Extreme Extreme Rod Potara Metamore Fusion Che cosa ho combinato Ok Allora io prima di tutto Foto fare una cosa Solo perchè ROAD Ressurrected E da ieri che devo farla Io ho visto come primo Io ho visto come primo il Potara Però ho visto due che hanno scelto Fusion Ovvero Metamore Metamore Fusion È giallo c'è ancora Ci sei? Porco 2 Ma non far casino Porco cane Sempre se sto silenzio Perroba mia Ah è vero Non ho quelle medie Porco diiii Devo fare il Battlefield di nuovo Lo farò poi per cazzi miei Allora era ERA Rod Resurrected Fusion Metamore Extreme Rod Potara Ah ieri ho fatto due molti di numero Su quelle dei Friend Due Super Sentra Ah ma non ci sono le ROAD Oh Mi prende per il culo sto gioco Non ci sono le ROAD Non ci sono le ROAD Non ci sono le ROAD Mi prende per il culo sto gioco In settimana Muti dei Friend Porco diiii Ma che cazzo E allora Che delusione Allora ci facciamo Un evento di C17 fisico Intanto carriamo a 50 like E pullo Anche perché è un po' tardi Dovremmo andare a mangiare noi Ditemi un team Wind Rainbow Niente Rainbow Rainbow Suddetta di Extreme GL No scherzavo Aspetta aspetta Me lo devono dir loro D'adesso in poi D'adesso in poi Dopo il commento di Ghialesk Top Ghialesk Top Full Power Usa la squadra Ancora Con sta cazzo Di squadra genio Basta Con sta cazzo Di squadra genio Ma boh dai Ma l'ho usata già ieri Ieri l'hai usata? Eh si L'ho usata già ieri Veramente Io non me lo ricordo Ma non ha lui Full Power Sono già in due Che mi ha usato Full Power Ok boh Andiamo col Full Power Semplicemente perché La squadra genio Non ho voglia di usarla Anche se Che poi la squadra genio Anche se è un bel team Mi piace come team Però Genio Sono gamer Io Non mi ricordo Se sono gamer E' uno che mi seguiva Già da tempo Che ha cambiato nome Omega Non so se Sai Omega Crafty Eh il problema Del Full Power Lo Shadow Dragon No Ah vero Lo Shadow Dragon È il mio Uno dei miei Devastanti Che ho avuto Dai usiamo Lo Shadow Dragon Perché per il Full Power Dovrei mettere dentro PG non Full Power Per far fare la special La Vocus Per sentire All'R Quindi Tien Tien Tipo esatto Shadow Dragon E' questa Ta 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 Eh Pan O Pan Volendo potrei mettere anche Goku Ma metto Pan Metti Pan La più bella Pan si è velocemente Perché c'è la dabilità In che batch future Conviene pullare Global Che batch futura Global Non future Ah Scusate In che batch futura Conviene pullare E Ma io pullare su Mirai Eh Mirai Gohan Beh gli interessanti Ce ne sono parecchie Tarles Tarles Vegeta Blue Evo Si può anche saltare Se non si vuole Vegeta Si può anche saltare Una bacia del cazzo C'ha due PG Forti Vegeta Blue Evo E suo cugino Vegeta Blue Evo Jiren No c'ha anche gli ultimi TSTR Ma wow Ah beh E Eh Eh O Tarles Vegeta Blue Evo Potete anche saltarla Se non volete Vegeta Barra Jiren Ma Jiren è una merda Mirai Gohan Che dentro c'ha Mirai Gohan Bardak Super Saiyan 3 Vegeta Blue E dopo Mirai Gohan Che cazzo è uscito Goku Super Saiyan 4 Full Power E poi questa Che c'è Da ieri Goku Super Saiyan 4 Full Power Com'era come la batch Bella Goku Super Saiyan 4 Full Power Chi aveva dentro Omega STR Omega fisico Lui Vegeta Super Saiyan 4 Gogeta Super Saiyan 4 Ah non era brutta Era bella Tenete per Bardak Secondo me Per Mirai Per un error Interessante Super Barber E perché pullerà anche Su Barbeck Bella Lello Budello Quanti like siamo intanto 44 Ancora 6 E andiamo a pullare Dopo il 100% Mi esce Parsing Non so cosa voglia dire Può darsi Io ipotizzo Sia perché magari Non hai memoria Ancora 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 Ehm Let's farm Che poi Mi sono ancora Bello La soglia Non c'erano più I miei Cosa è lì Stavo sentendo Un audio vocale 47 like Oh sniperino Micone Ciao sniper Ancora 3 like E si va a pullare Bella per sniper C21 è forte Chiede L'obudella Sì a me piace Ma molta gente Dice che fa cagare Poi ho semplicemente Ho visto tutta la gente Che la build a 15 11 E io la farò 14 12 C21 Perché 4k12 Perché sono Ah recupero la vita Sì Salve Ben Aprile Mi piace La trasformata è bella Una pgf Da un sacco che non Poi quando si trasforma Ti fa venire il cazzo Il cazzo duro Che si basta le labbra Ma vabbè Eeeh Perfect Priscilla Dopo tanto tempo Rieccomi Purtroppo il lavoro Mi prende tu Ciao Uzzoraco E leoni Ciao sniper GG per sniper Allora le road Le faremo Quando arrivano Cioè venerdì Alle 5 Quindi sabato mattino Sabato mattino Non si può Neanche domenica Quindi vediamo Vediamo un attimo Già gli rompo Troppo il cazzo E dico Mamma esci Papà esci Non c'è voglia di Mamma pesci E papà pesci Così Sì Io stava mattizzando Io mi sono dimenticato Che questa fase Evade tutte le special di chi E io ho un PG Nel team Che fa special fisiche Ovvero Che è Goku Super Saiyan 4 Ovvero Quello di adesso Ovvero Il Dragon Quest Ovvero Beste è il mio dio Bravo Forca madonna Qualcuno ha pullato C17 Oltre a meno il mondo Quale C17 Quello fisico Il cui presente Zorak Se vai a vedere La precedente live Quella che abbiamo fatto ieri Perfect Priscilla Lo ha ability 2 Dice Madonna Perfect Priscilla Non ha sfigato Con me Hai ancora stone Hai ancora possibilità Di pullare un altro Dai un like Giallo Guardami bene Ti sembra Nell'opportunità Di pullare un altro Con quello che Probabilmente pullerò Solo Tapion Adesso Se vuoi te lo provo A pullare io Farai tu Ma puli Borgos Se lo pullo Borgos va bene Anche Shugesh Sì Shugesh si Perché me ne manca uno Bello Ah il nuovo C18H Cos'è il C18H Allora È la nuova versione Quella Due occhi neri Ho bisogno di amici Con C16 Ho usato 550 stone Portando un bel C16 A B2 Ce l'ho anch'io C17 A B2 Non ce l'ho C21 Super C17 Vabbò Noi di Super C17 Ne abbiamo trovati Anche tra C'è lui Tra anche tra Io manco uno La grammatica E allora vedi Che sei frocio Cioè mi fai Raga Dove sta Devo rifarmi Mi ha capito un cazzo C'è lui Perf Devo rifarmi L'E Ho bisogno di amici Con C17 Se mi passi Di Dimi Fai un favore Ce l'ho anch'io C17 Ma non è Ability free E neanche Tour Ce lo farò oggi Appena tagliate i capelli Bella Abbiamo capito che forse lo shadow dragon Shadow dragon Non è il team perfetto per fare questo evento Almeno la terza fase Solo a livello Puoi scoprire queste perle Ecco la terza Esatto Boh almeno adesso gli facciamo una marea di da Una marea no Perché siamo a metà vita E quindi Goku non farà più tanto danno Beh 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 Ok Allora se ci fa la special A Gogeta Magari Riusciamo a contelare E vinciamo Qual è il team più forte? Dipende Non ce n'è mai uno più forte degli altri Dipende dai PG Eh boh Io per sicurezza uso l'item Non avrei voluto farlo ma Lo facciamo Ok Ecco se magari non mi fai gli additional con la special Perché in ROAD non me li fai gli additional con la special Se per team più forte intendi che ha statistiche più alte Sono Potara, Metamore, Super Saiyan 3, Future E Resurrected E androidi Tutti quali con 170% Per fortuna che non recupera la vita Ma guarda, meno male Però è una rottura di cazzo comunque Ma Gianlu? Sta facendo una cosa No ma vedi che allora sono figli di puttana Gli miei Omega Cioè non è possibile che in ROAD non mi facciano le special Gli additional con la special non mi fanno appugni Qua no Oh ce l'abbiamo fatta Che emulatore usi? Un momento relax Ok, ha pure crittato Grazie per non averlo fatto prima Perché sei stato molto d'aiuto Un'ora di run solo per staffate C'hai ragione Cioè in qualche modo adesso lo scoppiamo Un'ora di run saremo ormai a 60 light Forse No, quasi 50 Siamo 49 Dai ancora un like Andiamo a pullare Ah quindi Sì E anche perché dobbiamo andare via Beh sì, in effetti In effetti In effetti Guarda che mi fagliatiscono la pugna adesso Che figlio di troia Vico da puta Come si dice Nico? Non tengo parabras per questa merda Stavo dicendo tutto il tempo Con ce l'ho Grazie Ho creato un most 50 like 50 live 50 day Allora Finiamo sto evento Se si muove Quanti like? 52 Sono aumentati di bot Non tengo parabras per questa merda Mi piace il fatto che devi ripeterle le cose Per farle capire Sempre meglio ripetere che Non dire Strona Strona Nico io ho voglia di salato in questo momento Ieri mi sono mangiato una torta tiramisù Del supermercato che facevo un po' cagare Perché boh Porco 2 Mouse di merda Ho cioccato io Non è vero Dovresti Sì abbastanza Che tanto Non è vero Ah vi invito a fare il Toto LR Qual è il prossimo LR che troverò io? Tu? Non lo trovi Te lo dico io Bardak Perché shopperai per Bardak Esatto Quindi penso Bardak Spero Non uso per sé in 3 LR Anche Fin che non finiscono i ticket Potremmo essere Pulla Gabriele Non è che posso Pullare adesso Che sto facendo Un attimo Adesso che finiamo Virus LR Virus LR Magetta Ah anche l'Ordine ho detto Uno Virus Uno Magetta Ti ho detto Ah ok Beh tutti e due Mi van bene Cioè quindi Sono a posto 35 orco 2 Mi devo ricordare Quello che avete detto Ricordatevelo anche voi Penso che la cosa più idiosa di un Dokkan Fest Sia avere 3 PG In questo caso 1 2 e 3 Nella stessa batch Che vanno a tour Con un unico evento Con un unico 50 stamina E' una rottura E' una rotura di cazzo Goku LR Dice Nathan C'è Nathan Nathan 0-1 Non so se è lui Sì credo che dice Lui Ok ieri scherzavo Nathan Se sei tu Lui Gianluca non scherzavo Io scherzavo Io sto ancora aspettando Quei 50 euro Faccio anche una multi con te Perfetto Per scena Vai Perfetto Goku LR Molti in cui non troverò nulla Io ti dico un'altra c21 O c21 O altre due Io ti dico c21 Una la trovi O un c17 Almeno Multi di gruppo Cosa sono le multi di gruppo? Oddio Credo quella che fate i td Ovvero Pulliamo tutti assieme Lui pulla Fa 3 2 1 Mentre anche gli altri pullano Che chiari potevamo fare Porco cane E fu l'abilità anche questo Stai vedere bene Gianluca La mia pulla La mia pulla La mia La scopo La mia Oddio Stavo facendo malissimo Alzate una mano al cielo Poi alzate anche l'altra Battete le mani Fate un giro su voi stessi E bestemmiate E mi sa che quella bestemmia Sono scappati tutti Mister solitudine Porco dio Vabbè però non è detto niente Non è detto l'ultima parola Potrebbero esserci 8 Ok ability 2 Vabbè Già buono Non lo cercavo Ma va bene Meglio che un altro c17 Diciamoci la verità Da non averla Doverlo ability 2 Ora se mi pulli Masked A me va bene Perché mi serve un masked Tu più lo vuoi Più non esce Lo so Vabbè non è È pure ability anche questo No ma Ma non l'hanno ancora tolto dal gioco Sto pg Come? C'è ancora è vivo Ancora esiste Sto cattenico Mira e Toa L'ho nominato Eccolo Attenzione Vegetta Eccolo C'è E non si trasforma Ma dai Ma Datevene a fanculo tutti quanti Mi sono Che hai mica L'ha fatta bestemmia Francesco sei un mito Ti voglio bene Guldo Godly Guldo Da quanto Io l'ho trovata il tecno Oh Ability Ti avevo detto che trovavi C21 C21 C'è l'ho full ability Vabbè Mamma mia È odioso questo Non lo so Se magari l'ultimo fosse Per te è odioso Ma allora mi piglia per il culo C'è l'ho full ability Secondo me l'ultimo multi c17 Ma perché fai ancora Eh Conte ne fai ancora Tutte Tutte Si frega niente Tanto dobbiamo uscire Non ce la facciamo Non importa Ma che mi dispiace Hiccam hiccadan Ha detto Si è che Ti dà un po' fastidio Forse è featured Chi No Non deve dire quello Sembra che avesse stranutito Hiccam hiccadan Qui dentro Trovi c17 Lo spero C'è almeno per l'hability 1 Per me è un'altra c21 Lo spero Almeno lei Ability 1 Almeno lei Non voglio l'ennesima ability 3 Così è il terzo E' un altro pc Strx3 Ok vabbè Ce l'ho ability 2 adesso Buono Ah ultima multi Facevo De 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 Aspetta un secondo Di testa Mi stai sfanculando tutto Amico Dai devo tirare la testata al mouse Non va Non va le testate al mouse Sin ed Omega mi servono per extreme fisico Pullo l'oro e ho il team completo senza l'R Buono Buono Speriamo Non vado Io scommetto quel che vuoi Fusione Ragazzi fusione Vedi che ti ho detto io Blu No Non c'è blu Non c'è Non c'è l'R Oh my god number one Beh figa la fusione Uno Due Qua c'è la bustiamo Shugesh Zarbon No perché l'ho fatta io la salmon Zarbo-san Un Un Cogliencello UFO chiamata Vedete Chatsu Giallo ha scritto UFO Ah no Sì Tu Wow Scusami Mi ho detto male Piccolo Selezza Va bene Ability full Ma spero che non sia lui Dovrebbe essere lui Torricamente Porca madonna Che smeno Io spero che Ragazzi per un Vegito Un Selezza Ma bestemmia Però abbiamo gustato uno Ah che rottura di cazzo Per me Vegito Dovrebbe voler dire Ti dovrei che vuoi Cioè Vegito dovrebbe avere tipo La scelta Tra i Vegito Che lo clicchi e ti scendi Quello è vero No boh la scelta no Però uno Ma solo per me Cioè non per gli altri Io Sono un dio Quindi Dovrebbe essere Dockham Fest Exosy Più che altro Ma non è Dockham Fest Exosy È colpa mia È colpa mia Che ah già Andiamo al giapponese Che sta by guys C17 Eccomi il ritorno Bella ecco ti ritorno Comunque Nathan Dove secondo me Ultima multa di C17 Sono altri 50 euro Quindi 100 euro di ricarica Mi aspetto Li aspetto Così puliamo domani Poi il cramio anche a me È 100 euro Che amica Mi incazza Non so neanche se ci sarà ancora È il Super Saiyan Blue Si hai capito A cosa serve Nell'emozione Sugli all'erroo Ti giuro No uno ne ho trovato Ma mai come Vegito LR Mai come Vegito LR 3000 Mai come Anche No Vegito LR 2004 Ma Vegito LR Ne ho trovato uno Ma anche i PG in bacio Ne ho trovato una copia Che schifo Ho trovato solo non featured Almeno qua Ne ho trovato i featured Almeno qua C'hai le stesse serie garantito Che può compensare un minimo Lì pure Dead Multi Sfiga altissima Eh lo so Non hai per mano Ma non ci posso fare niente Ormai Ormai è andata Appunto il Super Saiyan Blue Non esce mai Con l'animazione Perché è nel È nel È nel gioco Ma non è attivo E comunque il gioco fa schifo Vegito E hai trovato Cell Tech Che ci posso fare Cell Tech Cell Non Cell 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 Tech E comunque il gioco Che schifo Vegito Tech Hai trovato Cell Tech Non è il fatto che Vegito ti fa trovare Cell Tech Che Vegito ti fa trovare I PG Feature Red SSR Quindi non Non è che Vegito ti fa trovare un Dockham Fest Non è la sua funzione Sniper ancora sta rosicando da me Li vogliamo bene tutti e due Oh per Dio Perché sta rosicando Non ho idea Perché ha trovato due gole LR Chi? Nick Ma no Sta rosicando di Sniper Sniper sta ancora rosicando da me Uno ha scritto Cioè Geals Top Ha scritto quello Perché forse lui ha trovato più LR Ma un C20 Ma un C20 E un C19 Decenti No No Ma un C80 Non c'è C80 Adesso andiamo Ennesimo PG ad Ability 3 Signori Io non voglio C'è Mi fa incazzare sta cosa Nick ma è così il cane di ricordo Tipo Ma non è lo stupro Tu stupri qualsiasi cosa che vedi Nick Quindi Arrivi al sushi Lo assaggia buono Lo stupri Sapete una cosa? Sì Può darsi Dipende che cosa Oh Sì Che bella liberazione Devo sfogarmi Non è questo Meglio questo Per me Ok Allora Facciamo così 18 Quanti LR LR Hai più ovviamente Quelli free to play E a tutti Tranne Beerus Vedete Vedete che ancora Comunque Non sono 150 mila Io la prossima settimana Potrei prendere lui Ma non lo farò Perché adesso farò così Per l'ultimo Per l'ultimo Così ce l'hai full lab Sì Cosa sto facendo? Sess E finalmente Full Ability in altro Un altro Farrocio Dovrei averle orb Teoricamente Spero mi basti No? Sì Qua si vede Ogni volta Ogni volta Ecco qua Io do sempre orbiling Ogni volta 6A 100 Ok signor Full Ability Eccolo qua Full Ability 20 Critico Ce l'abbiamo anche lui Adesso Dal prossimo Vai con Si prende Meta Cooler Meta Cooler Il migliore Dal prossimo Si va Con Meta Cooler Allora Io intanto Questi li locko Uno E due Io sapete cosa faccio? Perché sono un pezzo di merda inutile Voglio fare La La pazzia Fatto Che cosa ho fatto? Ok La pazzia La pazzia Chi c'è qua? Scusa Ah lui Mi tocca il farming suo Ah me l'aveva chiesto Quanti l'aveva Uno Due Cinque Dieci Quindici Diciannove Contando L'Ability Sono Boh Trenta No Tengo Parabras Oh Letta Merda Oh Mio Dio Tanto tu Brutta Stronza Di merda Troia Sarei pullabile Ovunque Io ti pullerò Una copia Io la pullerò Qual è la sua leader E la sua passiva? Allora La leader Categoria Androidi Ok 250% Chi più tre E la passiva Non mi ricordo Ma Dovrebbe Aspetta Ti cerco qua Così Giusto Oddio Ma c'è 17 Le pullazioni Ha pullato uno Dove? Chi è? Chi è? Chi è? Ma c'è 17 L'hai pullato? Sì E' qua Dov'è? Non c'è più Ah non c'è E giustamente Perché qua siamo Sulla eclessidra Quel virus STR C'era Questo? Una cosa Se scendiamo in auto Avete moneta Per il parcheggio Io ce l'ho Dovrei averla Se non devo shoppare Io ho anche Qualcosina Perché ho solo Tipo 2 euro Ci mettiamo sempre in fondo Ci mettiamo sempre in fondo La della scuola mia? No E' ancora più lontano Se andiamo alla della scuola tua In fondo intendi dove? Dalla porta Dove andavamo per prendere il cinese Che c'era posto free Ah la del molo Ok Va bene Questo fa Camminiamo Che più te l'è Attacca di te Quando si trasforma Invece Ma cazzo Fa questo Cazzo poi Copra HP E' fortissimo E condizioni per la trasformazione? Non lo so Non dovrei Guarda qui quanti LR Ha quest'essere umano Ma quanto linkano i due geniù? Eh? Quanti linkano? 30% Quando gli HP sono 50% superiori Dal quarto turno della battaglia Ah ok Non si sa per il genio LR global Cos'è che mi avete detto? Che non ho capito prima Quanto linkano i due geniù LR? Una cifra Ovvero? Tanto Più di Goku Super Saiyan 4 E Goku Super Saiyan 3 GT Si Dovrebbero rincare di più Tra attacco di Faesa Dovrebbero rincare di più Il cazzo di gioco nell'extremo Nel Junior Squad Ed è ancora qui Ah che palla Per l'ho fatto Veramente Ho preparato di avere di fuori Beh Non ce n'erano di dubbio Però non hai orvi Str no Più che altro Non è neanche sa 10 E sa 7 Sass Bella domanda Anche questo Ability 2 Facciamo Slocchiamoli entrambi Ok Finalmente Ok Abbiamo finito un sacco di robe Tra ieri e oggi Oltre tutte le stunne Ah se le ezzano Gli ho dato l'ability Buono da 90 Io lo do adesso Cioè gli sblocco la strada solo Poi c21 Una delle artwork più belle del gioco Per me Sì non è malaccio Allora Eccolo Finalmente Ah no Non è ability full Animesi was timed out by Ah sì Cabir sniper Il full è messo in time out Da sniper Ah perché? Non lo so Ci dovrebbe essere scritto Si va a vedere un attimo Perfetto Orbe Si bolla fatto sniper Sniper Sì Sì Il dior Ne dovresti avere Non per farlo completo Vediamo Forse l'ultimo Invece Vediamo No Eh ma non credo neanche questo 17 7 Vabbè a sto punto Andiamo a dargli elettronica No Mi mancano quelle medie Appunto Che prenderò col battlefield Che farò dopo Ah ma allora c'è là il full ability Sì 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 Devo dare le orb Ok Io direi che adesso mi aspetto un farming bello lungo Come se non Non li avessi già i farming lunghi Che cosa devo fare? Devo fare il battlefield a tre due volte Ah Per tutti i premi Devo farmare gothens Devo farmare c16 Devo portare c17 tour Questo è la mia giornata di oggi E Noi ringraziamo tutti per aver visto la live Intanto andiamo a vedere Cosa c'è nel babashop Io e la ciabatta Io e la ciabatta Combattiamo intanto Ricordo il gruppo facebook in descrizione Esattamente Contattare Contattare Nico Gianlu per la vendita di stone A prezzi scontati Sì quello sì Abbiamo due Kai Quindi la portiamo a 10 Regate Borgos e Givot Che vi porteranno a culo Soprattutto Givot No la portiamo Sa Sa 9 Sa 9 Però forse nei primi del battlefield ho un altro Kai Grazie mille Io sono di Torino E Grazie mille Loro tu sono di Trieste Grazie anche a te Sì c'ho un altro Kai Perfetto Oggi basta 10 51 Ottimo Queste qua mi serviranno una cifra Spero un giorno di riuscire anche a fare una live pull Perché l'ultimo tentativo è fallito miseramente E niente Noi ci vediamo alla prossima Live Che vediamo quando farla Adesso ci mettiamo d'accordo con Nico Ringraziamo tutti per aver seguito questa live Ovviamente passate dai link Facebook Instagram anche Che dovrebbe essere collegato a Facebook Dove Pubblichiamo poco ma Pubblicheremo magari di più in futuro Così Trovare qualcosa anche di E poi magari anche Essendo estate Non c'è c21 free to play Sì te la faccio vedere adesso Che è questa qui Che è super tra l'altro E Dov'è Eccola qua E lei ci mettono un free to play Senza trasformazione ovviamente E che sta qua E Allora auguro a tutti buon pranzo E Alla prossima Ciao ragazzi Allora auguro a tutti buon pranzo